Partire dalla Puglia a 18 anni a bordo di un camion con la moglie e tre figli. Era la fine degli anni 60 e il protagonista di questa bella storia è Luigi Lops. Oggi, quasi mezzo secolo dopo, il gruppo Lops è diventato uno dei più importanti della struttura imprenditoriale Lombarda e conta uno tra i più prestigiosi saloni del mobile d'Italia dedicato alla casa, un immobiliare di primo livello, un ristorante e pizzeria da 250 posti e un hotel a quattro stelle. E nel suo quartier generale di Trezzano sul Naviglio alle porte di Milano, il signor Lops si presenta ogni mattina all'alba per sovrintendere i propri affari. Avevo 14 anni, lavoravo in una segheria di marmi giù a Trani e a quel punto un giorno mi son visto prendere a schiaffoni dal mio caporale perché il proprietario le aveva raccontato che avevo fatto cadere un pezzo di marmo per terra e si era rotto. Al che in quel momento lì ho odiato un po' il padrone e ho detto un giorno voglio diventare io padrone però non comportarmi come si è comportato lui. Ho deciso di fare un film e raccontare un po' tutta la storia ma non solo per una mia soddisfazione ma anche per far capire ai giovani di oggi che facendo solo dei sacrifici che però dopo non sono più sacrifici dal momento in cui ci sei arrivato diventa un piacere di vivere e di divertirti sul lavoro. Ci si può crescere, ci si può comunque creare un avvenire ma ci vuole una grande costanza.